Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Allora, finalmente dopo un sacco di tempo torno con le mini size! E questo mese sono quasi tutte acquistabili. Allora, a voi vi racconto una roba. Sapete che ho dovuto fare, svuotare tutta casa, eccetera. E' successa una roba che ho pianto due giorni, ok? Quando c'erano gli svuota tutto. Io avevo già preparato gli scatoloni con le mie cose da tenere e da non portare via. Cosa è successo? Io mi sono completamente dimenticata di un particolare angolo dove tenevo le scatole con le mie mini size. E non mi sono accorta che le prendevano su. Quando io ho fatto il check delle mie cose, ho detto, ma dove sono, dove sono, dove sono? Era un po' il mio angolo segreto e li tenevo una scatola con degli orecchini che adoravo e quasi tutte le mie mini size. Io ho pianto tre giorni e penso che non mi sono ancora riprese e non me le prenderò mai. Perché le mie mini size, sapete, sapete, io, cioè per me le mini size sono una roba incredibile. Quindi ero giù di morale, sono andata a Sephora e ho svuotato il reparto mini size per riprendermi. Adesso mi ci rimetterò piano piano e le rimetterò insieme, però se ne avevo cento me ne sono rimaste cinque. E quindi è una roba che insieme a sette paia d'orchini che non li avrò mai più e questa cosa mi prende veramente male. Vi prego, ditemi nei commenti se anche a voi è capitato durante i traslochi, gli svuoti, eccetera, di perdere delle cose a cui tenevate. Non fatemi sentire l'unica e non fatemi sentire un idiota perché questa cosa mi ha spezzato il cuore. Molto bene. Detto questo, premessa, avevo delle cose che vi mostrerò molto velocemente. Perché? Perché vengono da Cult Beauty. Come sapete Cult Beauty ha sospeso l'espedizione in Italia a causa coronavirus, come se il coronavirus viaggiasse nei pacchi di GLS. Io sono scioccata, trovo che sia un provvedimento demenziale e loro si nascondono detto il fatto che dicono essere una decisione dei loro spedizionieri e non di loro. Alcuni di voi mi hanno mandato dei commenti che hanno fatto sulla loro pagina in privato o in modo ufficiale, quindi in pubblico, e le risposte che hanno avuto da Cult Beauty, non condivido neanche quelle. Era uno dei siti in cui io compravo di più in assoluto. So che è anche uno dei vostri siti preferiti, però questa cosa sinceramente mi ha lasciata interdetta. Detto questo, purtroppo, anno in esclusiva per l'Europa, Biosense. Una marca che io guardavo dall'esterno da un sacco di tempo e non riuscivo mai a comprare. E finalmente è arrivata su Cult e ho ordinato i due prodotti che era da sempre che sognavo di provare. In occasione, con l'acquisto di Totevo di quei prodotti, regalavano le mini sites della skin care. Vi dico di più, anche Glow Recipe, che è una delle mie marche preferite, per adesso ce l'hanno solo loro. Quindi io mi spero veramente che il provvedimento duri poco. Comunque, la Squalane Endomega Repair Cream. Questa è una crema barriera per il viso, la bellezza di queste cose qua. Lo Squalane End Peptide Eye Gel. Tra l'altro tutti i prodotti che non ho in full size, quindi li proverò molto volentieri. Mentre questo che ce l'ho, ed è il primo prodotto che volevo comprare, nonché secondo me il prodotto più famoso di questo brand. Che è il Biosense Squalene e Vitamina C Rose Oil. È un prodotto di cui tutti parlano benissimo. E ce l'ho anche in questa piccola ampoule. Quanto adoro queste cose, quanto mi mancano le mie mini sites, non vi posso dire. Comunque è una linea, se non sbaglio, abbastanza green. Tra l'altro tutto peck e reciclato. Però insomma, tanto adesso non la possiamo comprare. Quindi ho tolto anche da qui delle mini sites che avevo di Glore Sipi, perché è inutile. Chi vi faccia vedere così tanto per dire... Bene, andiamo avanti! L'ultima chicca ve la tengo per ultima. Dunque, queste non sono copiamente mini sites, ma lo vogliamo segnalare? Sephora Favorites sta lavorando sempre meglio. Io quando becco quelle cose lì le compro subito. Non vi ho messo in questo video la nuova bocca meravigliosa che è uscita di Sephora Favorites, della linea Labbra. Perché ci sono dentro praticamente tutti i full size, tra cui Pat McGrath. Se non l'avete comprata, correte! È una box di rossetti dedicata ai rossi, c'è Obsessed di Pat. Ve la lascio qua giù in info box. Comunque, questa invece è la Coquering Selection. E dentro abbiamo... Allora, lo spray di Mario Badescu, la Water Sleeping Mask di Laneige, la The True Cream di Belief, tanto la... non l'acqua bomb, che è la prima uscita, la Moisturizing Bomb, che è la nuova, quella più ricca. Poi c'è la Nuit Polaire di Polar, che è una crema da notte, la maschera a piedi di Sephora, la Peeling Solution di Dr. Jart, la Mini Size dei Good Jeans di Sunday Riley, che è un trattamento all'acido glicolico. E poi ci sono due reusable cooling eye pad. Io adoro questi kit di Sephora Fremorite, è un bel modo per provare i prodotti. Come? Sapete quanto io trovi fighissimo il marchio Yacht to the People? Nel tempo ho comprato quasi tutti i full size, e infatti fra un po' comincerò la loro skincare routine. E sapete che probabilmente uno dei miei prodotti preferiti, insieme all'Adaptogen Mist di Yacht to the People, e il loro detergente viso, che è ottimo, è la Glow Dream Mask, che è fantastica, fu sold out una vita durante il suo lancio su Sephora, hanno creato questa meraviglia di kit, dove abbiamo due tra gli ultimi usciti di questo brand. E ci sono il Kumbuka 11% Alpha Hydroxy Acid Exfoliation Power Up Toner, tè verde, acido glicolico e acido lattico, è un tonico esfoliante micro da 30 ml, e poi c'è lei la Super Belly Berry Hydrate and Glow Dream Mask. È una maschera che sembra un burro giallo, è una roba, provatela, veramente provatela. E la maschera contiene tra l'altro vitamina C, ed è da 15 ml, quindi non ce la mentiamo. È un brand 100% vegan, cruelty free, sustainable, come si traduce? Non so come dirlo. È fatto in California e skin care for all. Bell kit. Poi, ah, è di nuovo Cult Beauty anche questo. Era il nuovo kit di Drunk Elephant, altro marchio che hanno l'ora in esclusiva per l'Europa. Cult Beauty, ritorno a spedire in Italia. Comunque, era il nice to meet you, e c'era dentro la Proteiny Polyptide Cream, che è una crema che mi ha sempre incuriosito un sacco, e poi c'è lo Sly Makeup Melting Butter Cleanser. È un detergente, appunto, viso. Ed era, c'è in queste latte che loro fanno bellissime con le mini sites, ma... Ciao. Poi, 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 ho tante chicche. Per colpa vostra, quando il sito di Byterray ha fatto gli sconti, l'ho praticamente svuotato. E loro hanno queste mini sites in vendita, ma in quel caso, se spendevi molto, potevi selezionare un omaggio. Io ho speso talmente molto che ne ho potuti selezionare due, ma in generale sono in vendita, e trovo siano un bellissimo compromesso per provare i loro prodotti. Numero uno, questo qua è l'Hombre Black Star. Vi ho parlato nel mio ultimo video dei mattitoni Byterray, che sono una bomba. E qui avete Bronze Moon, che è il colore più venduto, però in versione più piccolina. Quanto lo posso adorare! E la chicca. Sapete le Dual Powder? Vi ho sempre parlato di Rosy Glow, come Cipria, e di Sun Desire, come blush. Bene. Qui abbiamo Sun Desire, da usare appunto come blush, perché ero usato in versioni. Che tra l'altro trovo che sia un bellissimo formato come blush, sinceramente, cioè, più che sufficiente, e invece che spendano magari 40 euro, ne spendo 17, quindi è troppo. Poi! Non li ho ancora aperti, perché me li volevo far vedere così. Ok? Sto parlando del nuovo trio, del Mini Matte Trans Lipstick Trio di Pat McGrath, nel colore Skin Show V2. Ora, Pat, se mai vedrai questo video, so che lo guarderai, perché tu lo so che guardi tutti i miei video. Cagate a parte. Evitiamo tutta sta plastica non necessaria. Addirittura vi arrivano, se voi ordinate a sto di patte, vi arriva tutto con dentro gli sberluccichini, che contengono i prodotti, nei pack di plastica, con gli sberluccichini dentro i pack di plastica. A me piacciono i miei pack, però secondo me qua siamo un po' sul too much. Cioè, non c'è bisogno di usare tutta sta plastica. Addirittura, a me non me ne frega niente. Addirittura un pacco e trovare i rossetti immersi nei glitter che tra l'altro sporcano pure casa. Della normalissima carta reciclata o materiali di scarto o i mais, quelli li chiamo mais, o quelle patatine ecologiche, ma più che bene. Ok? E qui nel trio noi abbiamo Flash 3 che mi mancava, Beautiful Stranger che mi mancava e Christy che mi mancava! Troppo carini, eh? Vabbè, andiamo avanti. Poi! Top Kit di Fenty. Qui noi abbiamo Fassi, che è il gloss che ho su in questo momento, e abbiamo How Many Carrots, che è il loro bellissimo balm, quello glitterato. Io odio gli illuminanti con i glitter, ma qui siamo dall'altra parte. Se non l'avete mai provato, perché avevate paura, questa è veramente, secondo me, l'occasione giusta per provare How Many Carrots. È una cosa che fa ricredere chiunque per quanto riguarda il discorso semi-glitterato di questo prodotto. Comunque non i glitter come lo intendiamo noi, ecco. Troppo bello questo kit. Adoro il kit delle mini di Fenty. Tendenzialmente quando escono li compro sempre. Poi! Ma vogliamo parlare del mini, mini, mini cream lip stain di Sephora? Questo era nel kit di omaggi che davano se spendevi almeno 49 euro sul sito di Sephora. Ed è lo Louise Red che è il rosso. Ma guardate quanto è bello! Ma poi è bello con la sua scatolina. Poi! Milk è uscita, Milk Makeup, con il suo primo idratante viso, precisamente un latte idratante viso, che si chiama Vegan Milk Moisturizer. E c'è il full size, ma c'è anche la mini size, che è quella che ho preso io. Guardate quanto è bella! A parte che mi piace moltissimo questo colore giallo neon. È troppo bello! Io l'ho provata solo sulla mano per adesso ed è abbastanza ricca, ma non unta. Ho visto che all'estero ne stanno parlando benissimo. Se mi innamoro, comprerò la full size. Ma intanto questa qua è super cute e ha un prezzo, secondo me, onesto. È un prodotto vegano e contiene la Micro Droplet Technology che permette praticamente di assorbire facilmente la Milky Non-Grazy Formula. Molto curiosa e molto bella. E questa qua è da, ora ve lo dico, ora ve lo dico, ora ve lo dico, 15 ammelle. Poi! Vogliamo parlare della cipra che l'anno scorso ha spopolato, ovvero la Hydra Beast 7 Refresh di Becca. Io non ce l'ho più perché la mia sera è completamente asciugata e poi ne è rimasta poca. L'ho buttata e ciao perché ormai non riuscivo neanche più a prenderla. La cosa che mi è dispiaciuta è che però l'effetto fresco, nonostante l'ho tenuta chiusa e tutta bene, è durato qualche mese. No, non era l'anno scorso, era l'anno prima. Infatti io ce l'avevo già da più di due anni e ci ho messo più di due anni a finirla perché non è una cipra che usassi spesso. E poi non l'avevo comunque neanche finita perché un po' rimaneva ma non ce l'ho più a prendere. Comunque, ce l'ho di nuovo ma ce l'ho piccola almeno così per tutto il tempo in cui uno ce l'ha l'effetto acqua rimane che poi trovo che sia la cosa bella di questa cipria. Questa dura sei mesi dall'apertura. Cavolo, ecco perché sei mesi, danno sei mesi dall'apertura quindi però cavolo il pack è tipo è pieno per metà. C'è mica un gran quantitativo ecco, quanto ce n'è? Ci chiamo di capirlo. Vabbè no, cinque grammi. Non è malissimo. Comunque è una cipria proprio a base d'acqua stranissimo questo effetto non so veramente come riescano ad ottenerlo ma trovo che sia un bel compromesso anche per provarla se non l'avete provata prima. Poi avete sempre sognato di essere bougie con le terre di Guerlain ma spendono più di 50 euro di una terra vi rode molto bene è uscita la mini size e non nella vecchia formula quindi quella che aveva le lavorazioni sulla cialda ma la nuova che è questa qua con il simbolo Guerlain al centro ed è il colore 03 Natural Brunette ora in inverno per me il colore top è il 2 Natural Blonde se non sbaglio ma anche la 3 la posso usare tranquillamente è un formato che si riesce a prelevare bene col pennello è da 4 grammi e è veramente una bella occasione per provare un prodotto luxury non dovendo spendere la cifra di un prodotto luxury questa mini size è top poi corriamo tutti a comprare questo kit questo è di Ole Ericsson ed è il Pre Makeup Babies allora contiene la Eye Cream Bananas che è quella gialla da 7 ml il Banana Bright Face Primer da 15 ml primer a base di vitamina C che ho odiato le prime volte che ho usato perché mi faceva mi si pillicolava dal viso un sacco poi di creator mi ha detto Giulia mettine poco guarda che è top e da lì lo uso sempre l'importante è metterne poco poi c'è la fantastica maschera viso la Fat Glow quella proprio che illumina top da 15 ml e il Transform Glow Glow 2 OH Dark Spot Toner da 65 ml che ho visto un video di Rush 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 non so come si dica che lo metteva prima del trucco solo nelle zone dove ha le macchie infatti proverò anche io con un cotton fioc perché ho qualche macchia questo kit è veramente bello e i formati sono veramente onesti top poi avete visto che Nudestix ha fatto questo kit top questo si che è un kit di millisides che vale la pena di essere acquistato perché contiene sentite qua contiene Hey Honey che è l'illuminante quello dorato che avevo portato anche con me al mare quest'estate vi ricordate quell'effetto quasi bagnato poi Bondi Bay che è il bronzer in stick più bello del mondo cioè Bondi Bay è una roba spettacolare ora ve lo mostro e contiene il blush ma non della linea Nudies ah no ho sbagliato contiene Sunkist Sunkist è il bronzer quello un po' più rossiccio vabbè è bello uguale Sunkist è quello che ha creato Mary Phillips è quello che vi avevo fatto vedere nel video sul sun stripping avrei preferito ci fosse Bondi Bay non so perché ho convinto ci fosse Bondi Bay ma vabbè e invece di blush c'è la nuova formula quindi quella dei Dewey quindi blush più luminosi che si chiama Sweet Peach Peony che io non ho ne avevo altri due ma non questo colore che è un bellissimo pesca un po' più glossato non sono unti ma restano più luminosi non sono super matte neanche gli altri ma questi sono un po' più glossi sono piccolini però è un bel modo per provare la linea vi faccio vedere anche Hey Honey ma ci potevano mettere Bondi Bay però anche Sankist mi piace molto Hey Honey è proprio un illuminante due atto vedete guardate se io adoro Newstix ho comprato un sacco di loro prodotti lo sapete ne ho tantissimi ve ne parlo da almeno due anni un anno e mezzo di Newstix ma questo secondo me è un'ottima occasione per provare un marchio che secondo me non ha in Italia la visibilità che dovrebbe avere poi le ultime due cose Yves L'Homme altro marchio super luxury sicuramente non a buon mercato i loro detergenti sia il cream cleanser che questo che gli oli sono stupendi ed è uscito il gel balm cleanser da 30 ml e questo costa tipo 13 euro ne usate pochissimo guardate che bello che è super luxury è super bello è da 30 ripeto ed è un bel modo per provare la detersione di Vlom senza dover spendere un capitale quindi adoro ho tenuto la chicca per ultima siete pronti? tada questa è praticamente la love palette di Natasha Denona dove al centro abbiamo pure love che è un colore appunto di questa uscita attaccato sul cardboard mi era stato dato in omaggio da Cult Beauty in un ordine fatto da loro e vedete ovviamente poi lo toglierò da questa ma ditemi che non è geniale questa sì che è una mini size di cui andrò molto fiera bene io spero di quale che questo video vi sia piaciuto se è così stato lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perdete tutta questa miriade di video un bacione grazie